Poi avremmo motivi almeno guardate Oh, oddio, sto pingando a 66, dove sei mai vista questa cosa? Incredibile Io sono a 52 Io di solito, ciao Garen Io di solito pingo sempre a 70 Chi sei? Io? Sono Tela No, tu sei Tela, l'altro È uno nuovo del clan No, quello che mi ha salutato, che ha detto ciao Garen Dove? Dov'è che l'hai sentito? Sei su un altro TS? Potrebbe essere, ma non credo Oh, sto giocando a Magic Hai visto che sono a livello 4 con Kalista, eh? Mamma mia, sei stata veramente brava, cazzo Mamma mia, ho fatto 17,3, 17 La sta usando da due mesi e da livello 4 Mica, veramente, cazzo Eh, non faccio mai normal, cazzo Eh, vabbè, è stato sbagliato Le faccio per sbaglio io le normal Esatto Vabbè, quando non c'è il tuo amore fai le normal Poi arriva lui e ti obbliga E tu come una schiava sessuale No, non è che mi obbliga, a me va bene anche... Ma che cosa? A me va benissimo anche fare arabe Certo, certo Ma arabe va schifo, perché fa arabe? Ma non è vero, ma a me piace perché ti capitano quelli casuali Massima ti capitano quelli casuali tra quelli che hai, non è che ti capitano quelli casuali E no, è tra quelli anche che ci sono in rotazione Vabbè, metti che non ti piacciono Oddio, che cazzo di skin è quella? Che schifo Quale? Aria accademica, che merda è Perché? Bellina Ma c'è veramente qualcuno che ha scioppato skin, questa skin No, la danno a Luca, con i codici La danno a Luca, però non è ancora iniziata a Luca, perciò Ah, c'è chi ce l'ha già? Questa qua la ha scioppata Ah beh Cioè, hai speso 750 punti per quella skin Come buttare i soldi nel cesso Avviamo la registrazione e registriamo questa partita Ma veramente? Adesso registriamo Bella ragazzi, eccoci qua, una nuova puntata di League of Merda Allora, siamo pronti a failare Guardate quella bellissima skin di Riven, perché non la vedrete più, perché farà veramente cagare in top lane Sarà delettata da Renekton Abbiamo Thea con il suo Yasuo Certo Con il livello 26 Tu fa finta che sei una ranked, ti divertirai Invece in top abbiamo Renekton contro Fiora A me questa Fiora nuova fa altamente cagare No, è fortissima, è fortissima la Fiora, però fa schifo Mi pompata di brutto Fa cagherla, quella vecchia era più forte e questa è pompata di brutto Decidetevi Cosa? Era più forte quella vecchia? Non l'ho mai giocata da quella vecchia Eh, allora, allora, cioè che cazzo vuoi? Cioè non sai neanche che ulti aveva Però adesso non è che se si fa la ulti scappano e poi la falciano, non è niente vero Vabbè, quella ulti è efficace solamente se ti prende in una zona chiusa, ristretta dove ti puoi inseguire Altrimenti Sei da solo Esatto In una via buia In una via scura In una via buia, esatto Ah, guarda, adesso fammi vedere Guarda, quella è una spada Non è una lancia, è una spada Quella è una spada, ma nella schiena originale Callista dal petto si toglie una lancia Eh, lo so E allora E allora Ah, Callista, quanti ricordi io e te In un regno, un solo re, un'unica promessa, la mia lancia che ti trafigge il petto Guarda, c'è quella sporca di sangue, bastardo Esatto È ancora sporca L'ho tenuta come ricordo Non l'ho mai davata Invadiamo tutti Dai, invadiamo Però, in preda al divertimento, ho messo Flash al posto di... Di Ghost, ma va bene lo stesso, dai Sì, appunto Un altro premio per Karim Ma che sono tutti là E allora, cerca di non farti violentare Così, eh C'è lo scudo, non mi ha fatto niente Perché sono tutti nella brush? Eh, perché loro startano dal Drake Ah, ah, ecco Brava il fatto Eh, figa, sono tutti lì, cioè, startano dal Drake, che ti devo dire Eccarino 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 Levatevi dai coglioni Grazie, signori E siete stati molto gentili Questa c... Minchiaso raka No, vabbè, la voce in inglese è stupenda Mi sa che quella fiera muore, non l'aiuto, che non me ne frega un cazzo Lì non ci doveva stare, comunque Perché sono andata a fare il red? Che palle Ora, non hai neanche cominciato, stai già frastimando, eh Io? Eh, sono raka, mi rompo il cazzo Ah, fiera, non sapevo Solo se la uso io mi va bene Eh, beh, ovvio Ok, no Eh, lì, l'ha usato Perché l'ha usato lì Gli hai fatto paura In culo, quelli che mi vogliono dire No, ma si comincia dal, dai golem Il red si fa per seconda Gne 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 Ma andato in affanculo Si comincia sempre solo dal red No, no, dal drago Dal drago, esatto Se sei pro, starti dal drago Se non sei pro, non sei pro Mi lasciano farmare in Santa Dalla, visto? No, Fede, eh Ho bisogno di soldi C'è critica Che fastidio, da... Capum, first blood Pure Madonna, come l'ho mancata quella Un altro premio per Akarim Sì, effettivamente è Akarim lo preferisco in giungla È figo anche in lane, però non è altrettanto efficace In lane può essere counterato in giungla è già più difficile affrontarlo di quella puttana oh bella brava fede eh no stavo scappando e l'ha attaccato un me sapete che la partita va a finire su youtube quindi siete in diretta ovvio le carico tutte su youtube queste facendo un canale preparati fede oh mio dio è arrivato a portes portes siamo in diretta dal league of legend streaming io fede ecco mamma mia facciamo il canale youtube league of legend e ricordi se sotto torre nemica guarda vengo subito a cancare ma ti pare che siamo sotto torre nemica è vero che tu non sei riven mi ero dimenticato che tu eri che tu eri contro ari ecco qua visto un bel calcio in culo alla volp povera ari eeeh deve morire quella schifosa non sta giocando madonna mia c'ha già la porta stai attento comprati le poze perchè va così di prepotenza proprio la cattiveria è la messa e è sempre quella di gigante beh pato stacchi gli ho fatto buttare i fantasmini il flash lo poto buttare daam daoo ok okey Deglielo anche tu, Fede. Shoppa, shoppa. E visto che ci sei, shoppami anche una skin. Guarda i miei fantasmini che vanno avanti e indietro. Vabbè, come fa Fede? La domenica, dalle vecchiette, oppure a messa, all'offertorio, prende il cestino, se ne va via. No, allora, quelli stanno già cagando fuori. Il mio red non lo toccano. Anzi no, il mio drake non lo tocca. Beh si, Fede lo fa tutte le domeniche, vai in chiesa, prende il cestino. Ruba i cestini delle mose. Delle offerre, esatto. E ora, anche lei ne ha bisogno, non è che... Fa bene? Occio, 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 cosa cazzo vuoi fare, Nunu di merda? Oh, cazzo vuole da me? Eh... Come ha trattato i capelli, finalmente, come vogliamo i capelli torchi? Oh, ha trattato i capelli, il bello di casa. Tratti io ho i capelli lunghi, perché sono troppo... Eh, è troppo mainstreaming ha per i capelli lunghi, la tua. Non è? Non ci vuole quei capelli lunghi, tutti quanti c'è, ci sposti e c'è, ci atti indietro, che sento assi. Per esempio, i miei capelli torchi. Ah, se lo fai... Wow, 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 signore, signore, signore... Eh? Signore, veloci dal Drake. Arriva, 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 incredibile! Andale, andale! Allora, lo farei io! 얼�, caprichi Dai, ha flesciato! Mamma, ti andCRI che c'è un nabbo fuga. Chi WORK me adesso! Chi wrong daia, dai, che te lo prendiamo. Preso Are a xu is the siren I am the beast, no tu sei un coglione, non sei I am the beast Però è grazie a lui che almeno abbiamo preso difeso il nostro amatissimo Drake Bene, non è vero, l'abbiamo fatto grazie a me perché sono l'edifico Bene, come si builda Akarim? Ah ok, ora mi ricordo Velocità, d'attacco Sei d'attacco Doppio Hai sbagliato parametro mi sa Oh oh oh, come gliel'ho parata Cazzo ci fanno? Comunque grazie per gli SS Non hai bisogno degli SS, devi guardare sulla minimappa I veri pro non usano gli SS, ricordalo Ma è troppo figa la voce in intesa Vero Di Akarim è bellissima infatti Cazzo me ne frega di Akarim Guarda che c'è la sua morte con Akarim E certo li ha ammazzato Callista E' normale che ce l'ha Però in origine pensavo che Callista e Akarim e Trash Facessero parte del regno di Mordekaiser Invece Mordekaiser l'ha schiavizzato successivamente le loro anime Il più semplice fatto è che loro erano Sono spettri più deboli di lui Bastardo pure lui allora Ma vabbè Mordekaiser era intrappolato nelle isole benedette Ma c'è C'è Una delle tue skill li alzi i nemici vero? Non ho la benché minima idea Forse il Che c'è già lo trash? No la falciata sposta indietro Cosa fa? Sto creando mazzi Eh lo youtuber Oh il rag è gone Ah questa non la sapevo È in grado di bloccare E mi hai fatto ultare? Eh hai fatto una cagata In realtà non ti ho fatto ultare Ti ho voluto solo seguire nell'azione No 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 Non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio Vabbè ma cazzo la kill lascia me la stronzo Me la sono tentata ma non era il caso Dove sta andando? Dove sta andando? Dove sta andando? Cadi quella puttana Guarda com'è Ah ok Pensavo si facesse baitare quella scema Ah che bello giocare a League of Legends Ah Andiamo a noi Fammi capire cosa vuole fare questo Che carini fantasmini che si incontrano Allora in teori ari non ha nel flash non dovrebbe avere nulla Uuuuh 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 Arrivo Eh ma cosa Lancia Riven Non c'è Riven Non c'è Riven Non c'è non importa Vai uccidi Eh cazzo mi dispiace Eh vabbè fa niente fa niente Che male Che male Voi bene volete andare a piedi Ma perchè tutti arrivano nella mia legna? Ci metto troppo a piedi Ehm Voglio andare a Lucca Anche io Eh la gente che vuole andare a Lucca Ah ci voglio Fortes ma Magari vado a Lucca Che nice friga Vado a Lucca tipo poi vinco Ma sai le skin che metto no? Eh Riven Arcade Ehm E ari E ari Io ho due biglietti qua Valedetto telefono sto registrando non puoi rompermi le scatole adesso Bah io non ti ci veda come youtube Dai manchino Muoviti 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 Io spero che vi sentiate anche voi nella registrazione sinceramente Altrimenti la devo buttare e mutare il microfono Bravo meglio No io voglio che vi sentiate anche voi Vi devo sentire il rage totale di tutti Più Perchè? E' il rage che fa visualizzazioni Mamma lo sai che io metto Dopo di tutti Vabbè poi mettiamo una bella foto Una bella foto delle tete di fede in prima pagina Mamma mia Diventiamo degli youtuber professionisti Ma non so se avete visto la film perfetta che ho fatto ad ari Tantanto su facebook fede è piena di foto a tete di fuori Ma la smetti Scusa fede Ehm No ma non le mie Ma nessuna Eh Io le avrò quelle di fede Buongiorno No Le avrò anch'io quelle di fede Anche no Signori Eh dai fede Non fare così No le ho già butte Ma le ho già butte da chi? Ma le ho già butte da chi? Guarda che topolino non conta Ragazzi Tela ha avuto il bato di topo Uh 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 Attenzione che sta arrivando ari Eh fede non è molto contenta No Che carina fede Una mogliettina Come lei Non si trova La V di... Di Katelyn... ...mosterà... ...di 45 secondi, figa. Dai... Dai, entra nel range... Muoli! Cazzo! Dai, cazzo, ma tu guarda sto figlio di puttana! Eh, porca puttana, però, se non mi racconto... Eh, vabbè... Deve essere support, questo... Non ci posso credere... Support un cazzo, su... No, ho sbagliato! Ma... 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 Flammiamo un pochettino sti stronzi, per avere più fortuna di Satana... Che sfiga, no, ha fatto la sfida... ...cazzata grande, viva... Venga, veramente, guarda, come... Come ha usato Renekton salvarsi... ...non ha prezzo... ...si merita solo una valanga di babysitting in top... Per fargliela pagare... Oh, porca puttana... Qualcuno può andare un attimo in mezzo, per piacere... Ecco... No, 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 per piacere... Sì, sì, sto andando, sto andando... No, aiuto, voglia... È che è lento, è un puledro lento... Beh, mi sono salvato... Io sto andando in top io, scusa... Dovresti essere tipo... ...il champ che va più veloce in tutto il gioco... Oh no, Fortes... Cosa? Che è Karim dovrebbe essere... ...il champ che va più veloce in tutto il gioco, posso? Dipende... ...il champ che face... ...neva così... ...il champ che va più veloce in tutto il cielo... ...al favorece in tutto il gioco... ...icolta la barra... Ma qualcuno ha più di visto? Ho, 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 ho... ...ecco lo ho, ho, ho... ...ecco lo ho, ho, ho... ...è 80 mila di life speed eh... Sì, è guerin... ...è, non è... ...è... 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 ...scusa, Fiora... non volevo sinceramente oh cazzo guarda non è stato molto forte, fa stifo corri Fiora corri sono un attimo in lane e sono un attimo occupato ad ammazzare una wow 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 che cazzo succede? cos'è questa questa laggata epica madonna allora l'unica cosa che tu puoi rubare maledetto maledetto cancro addirittura la ultima non ci credo non ci voglio credere ma siamo seri minca ma l'hai visto come si è salvata ma ti sembra possibile occhio occhio sta arrivando tutti eh si infatti eeeh ciao ti riporta no scappa schifo buona buona si ammazza madonna mia ma io ci ho provato ad aiutarti non ne sei stato degno cosa che ti sei venuto a volutare e poi basta oh e quella si è salvata ma appunto ho avuto un culo assuro ma perchè gli dovevo metterlo schifo ma l'ho diventito ogni volta ma l'ho diventito 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 ma l'ho male che c'è fiore cos'è che non è questa fiore? no quella vecchia sarebbe già morto Renekton è ben diverso cioè guarda quanto è scappato quanta vita ha avuto cioè è sopravvissuto anche troppo a me pare che comunque questa fiore c'è un piccia è più facile da affrontare i danni li fa è la meccanica in cui fa i danni che non mi piace cioè non è che non mi piace è che è più debole rispetto a prima non lo so non penso che sembra aspetta resisti 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 zio 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 sono qui vai 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 buuuu muori pezzente mamma mia mamma mia il raggetton colpisce ancora dai quanto siamo forti stiamo carriando ma tu guarda io le tue stesse kill non sono ancora morta te lo dico vabbè te che c'è un supporto con te ehi femmine femmine della bot venite qua ho visto Ash Soraka help me senpai help me senpai oh perchè sto attaccando il drag era tutta una strategia io la lascio stare aspetta più ora lo faccio oh riven che no vai via che ti ammazzano lasciala morire da sola meglio lei che te cazzo veria visto visto se l'aiutavi saresti morta tu 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 dai mi avevo da fare il drago allora si da sola guarda che non è che ci metto tanto con una via tua eh fa come si pare te la faccio benissimo a farmi il drago da solo l'unica cosa è che ci sono i nemici non ci posso far niente io cazzo non ho il flash non ho la ulti voglia addosso voglia addosso dai peccato ma che schifo dai stil è inutile che siete mamma mia mamma mia ma cosa ti stiliamo ci hanno stilato il drake ma valla ma cosa stilato che sei un livello 27 cosa vuoi stilare abbiamo vinto gg suck vpgg ma valla ma valla ok partita blocchiamo la registrazione 24 minuti di game cazzo h cazzo Grazie a tutti.